I drammi del mare. La costa nord-ovest del Pacifico è stata punestata da un nuovo nautagio. Quello della nave da carico Aiwa, scaraventata dalle onde ad infrangersi contro i banchi di sabbia dinanzi alla foce del fiume Corumbia. 24 vittime sono il tragico bilancio del sinistro. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info